signori e signori buonasera benvenuti a casa mia benvenuti come sempre ben ritrovati qua nel solito disordine della mia libreria allora 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 vi faccio un ennesimo video in cui tra virgolette devo parlare di quell'aulico fenomeno che risponde al nome di Giancarlo Mele proprio lui il fenomenone paranormale che mi accusa di essere inaffidabile perché in base ad una lapide letta da lui letta nel comune di Fossombrone ha scoperto che Astorre Trappoli uno dei personaggi che ho citato nei miei video non è stato assassinato dai tedeschi ma caduto in battaglia allora evidentemente il signor Mele è uno di quei simpaticoni chiamiamoli così che crede a lapidi come quella del mancò la fortuna ma non il valore il soldato tedesco ha stupito il mondo ma il bersagliere italiano ha stupito il soldato tedesco e le auliche castronerie sugli inesistenti elogi di Churchill alla folgore eccetera 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 io non so perché il signor Mele mi dà l'idea di uno che crede a queste cose qui ma che vi devo dire lasciamola alla sua vita cioè del resto uno che si ingegna si impegna e si sfuna come dicono da queste parti a cercare prove contro di me per dimostrare la mia inaffidabilità insomma che vi devo dire da comandante assoluto e incontrastato della banda del metallaro il sottoscritto si trova in dovere di rispondere a certe considerazioni adminchiam fatta da certi cialtroni chiamiamoli con loro noi allora ripeto il signor Mele fa riferimento per la mia inaffidabilità a questo cippo che vedete qua a Fossombrone ok che parla dei partigiani delle brigate di distaccamenti delle brigate garibaldi ahimè morti in combattimento durante i duri mesi in cui la resistenza metaurense contrastò in qualche modo l'occupazione tedesca i morti sono come dire come dire i morti in battaglia come detto dalla dalla lapide sono leone balducci gino barcelli odergo buccarelli cucchi blasco ligi ed nando marchionni pietro rinaldo rinaldi enrico rinaldo rinaldi che ebbe la sventura di essere impiccato agonizzante al primo albero al primo albero di 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 Fossombrone bella roma e soprattutto trappoli a storre il primo a morire solo che c'è un problema la lapide dice tra virgolette per comodità come formula di comodità parla di partigiani caduti in combattimento caduti in battaglia e qui sinceramente è in errore perché trappoli ripeto fu assassinato fu assassinato il 20 ottobre 1943 dai fascisti forse empronesi e fu un omicidio questo che riempì di sdegno la città un volantino trascritto integramente dalla diarista a delle rondini firmato i commiltoni ricordati le infamie senza nomi che ci pesano da troppi anni e terminava affermando nel nostro amaro silenzio matura però inesorabile l'ora della riscossa e della rivendicazione la rondini parlava di come al funerale del trappoli tutti seguivano la bara nera aperta di fiori rossi e che per le vie i giovani complottavano un altro gruppo di giovani forse empronesi riunitosi un paio di volte per esaminare in mezzo a tanta comprensibile confusione la nuova situazione politico militare venne denunciato per la delazione di un concittadino più anziano di loro la solita tendenza dei forse empronesi a non riuscire fisicamente a farsi i cazzi propri detta com'è e furono arrestati non avevano ancora fatto nulla contro il potere repubblichino la repressione scattò immediatamente nei loro confronti arresti da parte dei carabinieri intimidazioni diffida a non interessarsi più di politica e impegno a segnalare eventuali situazioni anomale insomma un episodio che impedì la saldatura tra i due gruppi quello politico e militare che impedì sicuramente una maggiore efficienza della resistenza nella zona della media valle del metallo ma ripeto ma rimarchiamoci un attimo sulla storia trappoli trappoli viene inserito nella lapide come caduto in combattimento come tra virgolette formula dovuta ad un partigiano come lui partigiano che purtroppo non poteva ai combattere dato che fu ammazzato il 20 ottobre 1943 dai fascisti italiani ok occorre ricordare al signor mele alcune cose soprattutto che la prima come dire azione partigiana nella zona di fossombrone e ed intorni avvenne molti mesi più tardi la morte di la morte di trappoli la la resistenza che la resistenza metaurense era composta da veramente pochissime decine di persone non più di 60 80 gente che aveva spesso poca o niente preparazione militare gente che non riusciva come dire quasi a tenere in mano un fucile ma gente che era determinata che era coraggiosa e che volle lottare contro una situazione terribile la fame le violenze dei tedeschi che ci furono e che ci furono come le violenze dei dei tedeschi nei confronti della nei confronti della popolazione civile italiana locale basti dire una cosa cioè a smontare le teorie del signor mele sulla come dire mia in affidabilità come storico ricordo soltanto una cosa trappoli fu assassinato il 23 ottobre del 1943 ok la prima e ripeto la prima azione partigiana nei dintorni di fossombrone ebbe luogo il 16 gennaio cioè mesi dopo la morte del povero trappoli va bene i tedeschi e i fascisti cercavano di eliminare prima possibile possibili oppositori possibili persone che potevano dare problemi e trappoli con la sua capacità politica con il suo carisma con il suo modo di attrarre a sé i giovani e i malcontenti del nuovo regime fascista era un bersaglio ideale fu trovato raggiunto gli spararono e non lasciarono tutto qui e il primo scontro partigiano nella zona di fossombrone avvenne soltanto il 16 gennaio 1944 due mesi buoni dopo l'assassinio di trappoli perché quello di trappoli va chiamato col suo nome non uccisione in combattimento come la lapide fa erroneamente credere ma assassinio brutale vigliacco assassinio a tradimento questo accade al signor trappoli se il signor mele continua con le sue fanfaronate faccia pure dimostra di essere ripeto un nostalgico da quattro soldi uno che in vita sua non è andato oltre all'impararsi a memoria le usuali filastrocche a la scritta la la storia scritta dei vincitori a mussolini unico onesto in una banda di ladri a quando ci era levoy a levoy perché non ci sei più vigliacchi assassini che ci avete assassinato levoy i brutali americani che ci bombardavano provate a chiedervi chi bombardavano provate a chiedervi chi ha dichiarato guerra a chi coi nostri 20 milioni di baionette che i cingoli degli sherman ci hanno bellamente rincalcato uno per uno super il culo è è io lo dico sempre la guerra è una brutta cosa bruttissima cosa ma veramente brutta e quando tu dichiari con stupidità con grettezza con meschina prepotenza e con un volgare blef sul tavolo della storia dichiari guerra legandoti mani e piedi al carro della germania nazista insomma signori non lamentiamoci se andata a finire come andata a finire e ringraziamo che per noi gli alleati per quanto possa sembrare strano hanno avuto anche un occhio di riguardo già hanno avuto anche un occhio di riguardo rendetevi conto insomma caro signor mele faccia un po come le pare penso un po quello che penso un po quello che le pare ma il fatto che lei sia andato da napoli a cercare su internet a perdere tempo la lapide del povero trappoli e dei suoi poveri colleghi partigiani cioè la dice semplicemente molto lunga sulla povera miseria della sua vita esca di casa si faccia una vita conosca una ragazza scopra le gioie della patata ha messo in un concesso che sappia che cosa sia si faccia una vita lei ne ha bisogno perché lei così sta male a furia di dire a furia di accumulare queste figure di merda sono due mesi che i membri della banda del metallaro si accaniscono su di lei e guardi mi creda è un grandissimo complimento per me l'ho detto c'è la banda grossi di cui è stato appena fatto un bel film c'è la banda del mucchio selvaggio c'è la banda james c'è la banda di jesse james c'è la banda dei fratelli delton c'è la banda di ninconanco e di fradiavolo la banda cavallero la banda del gobbo la banda del buco la banda del metallaro suona benissimo oserei dire di sì distribuirò ai membri della banda del metallaro un apposito distintivo completo di pergamena distintivo con un motto ovvero sia per culatio ab docere con dito medio alato accompagnato a seconda dei casi e dei gradi del merito dalle foglie diversa da coltello e forchetta e soprattutto dal fiasco di chianti perché perché le ottime per le brutte persone ottime massime sono quelle che mi mandano avanti che mi danno una mano con il loro spirito con la loro collaborazione con i loro commenti a dare a mandare avanti questo video con un pochino di sprint e a darmi idee che vi devo dire il signor mele continua io ripeto faccia pure gli do come dire il contentino di questo video per pietà data la pochezza delle sue argomentazioni e per la sua evidente incapacità di di accettare la verità ricordatevi quello che disse il dalai lama se tu uomo correggi un saggio quel saggio te lo farai amico perché lo hai reso più sapiente e hai migliorato le sue cognizioni ma se tu uomo correggerai un cretino ti farai un nemico perché un cretino non è in grado di capire che cosa è l'essere saggi tutto qua quindi cari signori vi ringrazio come sempre per l'attenzione e arrivederci al mio prossimo video buonasera grazie a tutti